Ciao a tutti, io sono Giorgia ASMR Oggi vi porto un video a tema legno quindi vi farò ascoltare dei suoni provenienti da oggetti fatti di punto di legno Innanzitutto mi scuso per l'assenza però sono state giornate un po' piene quindi non ho avuto assolutamente tempo per registrare anche perché ripeto, registro di notte quindi non ho tutta questa disponibilità ok, io direi di iniziare subito con questo oggetto qua che non è altro che legno tagliato che ho preso una volta ad una fiera in cui appunto facevano vedere come si viveva in altri tempi e facevano vedere appunto anche la lavorazione del legno e io ho preso questo pezzo da terra e volevo anche ringraziarvi perché siamo arrivati a quasi 60 iscritti in questo momento che registro siamo a 59 quindi manca un iscritto e quindi non è un po' più e quindi non è un po' più potreste sentire l'orologio che è dietro di me e fatemi sapere se vi dà fastidio intanto sto spricionando tutto qua ok siccome sono parecchi oggetti direi di cambiare il prossimo oggetto che voglio mostrarvi è questa casetta di legno con l'albero di Natale con l'arsetto con il cappello di Papà Natale e il stesso disegno qua e l'albero di Natale e l'albero di Natale era una lampadina una volta si accendeva ma si sono scaricate le batterie questa casetta era per i cevetti una volta quando ero piccolina e avevo fatto un soggio per Natale appunto come era facile intuire e ci regalarono questa casetta e ci regalarono questa casetta prossimamente vorrei portarvi un video in cui metto lo smalto volevo registrarlo stasera ma ti vorrebbe troppo tempo quindi sarà credo il prossimo video che uscirà penso di registrarlo domani sera ok non mi entusiasma troppo questo suono qui ho un oggetto che probabilmente non avrete mai visto o almeno molti di voi come vedete una rana che ha questo bastoncino tra i denti cosa succede? allora questo bastoncino va sfregato in questo modo sulla schiena della rana e riproduce appunto il verso ora proviamo sperando che non sia troppo forte quindi devi andare più fatta più veloce per per rendere meglio però secondo me è molto rilassante sto turmettando a presto a presto a presto a presto questo questo l'ho presi qualche anno fa alla fiera del mediterraneo in cui vendevano molti oggetti di questo tipo infatti c'erano anche altri animali tra cui vari uccelli però non ricordo cos'altro però mi ricordo che presi la rana perché era piccolina e carina però di rana c'erano anche dimensioni molto più grandi questa forse non era la più piccola ma quasi ok adesso ho questo zettino qui che tutti voi conoscerete probabilmente che fa parte di quelle barghette che si usano alle feste per tenere le caramelle quest'anno mi ricordo in che festa l'ha presi sinceramente anche in questo video fatemi sapere quale sono mi piaciute di più e che si usano alle feste di più Grazie a tutti. Ok, come prossimo suono questa scatolina, questa qua, è fatta qui in legno rigido, mentre poi qui l'apro l'austolato perché è pieno. Ok, sì, è vero questo modo. Ok. 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 A parte il tapping che è un bel tapping, però niente di diverso da quello che abbiamo sentito adesso. vorrei farvi sentire proprio la melodia della canzone ok il cartone della bella bestia è uno dei miei cartoni preferiti questa me la regalo a mia sorella per Natale qualche anno fa le vendevano in una bancarella e vendevano le colonne sonore di moltissimi film, moltissimi cartoni ok direi che possiamo salutarci e ci vedremo sicuramente presto rispetto al tempo che è passato tra lo scorso video e questo vi auguro la buonanotte e fate sogni d'oro buonanotte